Patch veloci 12.2 per chi vuole entrare in ranked e ascoltarsi i bilanciamenti in Champions Select Zeri, il nuovo campione, esce il 20 gennaio alle 22 Le nuove skin porcellana e le skin firecracker usciranno il 26 gennaio alle 22 Gianna riceve un reworkino che le fa fare meno danno ma cura e scuda molto più di prima L'anima X-Tech fa meno danno di prima perché fan culo i danni L'anima Chem-Tech ti tiene in vita per meno tempo e con meno HP Visto che il competitivo è stata totalmente abusata e ci ha ricordato che non esiste alcuna divinità La Landa Chem-Tech ci mette 2.5 secondi a renderti invisibile Almeno puoi piazzare dei lumi decenti in giungla Rune modificate Il tempo letale scala con i livelli Più debole a inizio partita, più forte a fine partita Sia per campioni corpo a corpo che per campioni da gittata Item buffati La Leech Bane ora ti dà ability haste La passiva scala meglio con la P e puoi usare la passiva più spesso Il Riley costa molto meno e ti dà poco meno potere magico e più HP Rendendolo estremamente più efficiente Chem nerfati Lulu Meno polymorph e meno baffaglia di carry Visto che è letteralmente l'Enchanter più facile del gioco E non dovrebbe essere anche il più forte Kiana Meno eltregen Meno invisibilità durante la Q erbosa Almeno dovrebbe essere un pelo più gestibile Un pelo più gestibile Shen Meno danno sulla vita massima dalla Q Per evitare che sia troppo dominante in troppe situazioni in top lane Anche se... yeah... non se lo meritava Tan Kench In top è morto Perché non si difende come prima quando è da solo Facilitando i trade contro la maggior parte dei top laner Quando è in dual lane funziona come prima E la Suprema ora dà movement speed quando divori un alleato Talon Fa meno danni ai mostri perché tutti, persino in casa Riot Hanno capito che nessuno vuole giocare contro Talon Jungle Zed Meno danno base dalla Suprema Per evitare che tutti gli Zed turbostompino qualsiasi cosa gli capiti a tiro C'è imbaffati Nocturn Più danno dalla Q e più vita per livello per riportarlo alla luce Rengar può balzare nel camouflage o mimesi una volta arrivato al livello 6 Funziona col Chemtech, funziona con la E di Senna Ma non funziona con la Dractar Perché la Dractar è invisibilità pura e non mimesi Samira Più danno base della ulti per darle una spintarella dopo le ultime patch Senna La Q adesso rallenta per farla funzionare di nuovo come campione Tristana, più vita di base e più eltregen per farla vivere un pochino meglio in bot lane Veigar, preparatevi a un dio odiosissimo che spamma violentemente tante di quelle Q Che gli fa fare tante di quelle stack che ti fa fare tante di quelle bescemie In più contro il 90% dei champion in lane Yeeey Volibear, più AD per livello e più fulmini dal cielo per l'orsetto peloso del Fregljord Yasuo e Ione Leggero potenziamento sul danno della Q per riportarli sopra la soglia del 48% win rate Perché sicuro non sono assolutamente favoritismi questi E questo è quanto per questa patch Good luck in esports raga Grazie a tutti